sempre per la questione concerto del primo maggio oggi abbiamo la rua che sono loro uno dal nome potrebbe pensare la rua è una persona donna invece sono sei elementi e già l'avete fatto in passato giusto sì sì sempre qui a roma quindi l'emozione non c'è più perché una volta fatto sentire l'emozione c'è ancora c'è un pacco è bellissimo è uno dei parchi più grandi che abbiamo nella nostra città che è roma voi invece siete di ascolificeno che lo dico nelle marche se non sbaglio ascolificeno marche voi siete in sé quindi più della media dei gruppi che di serio sono 45 ricordiamo i beatles erano 4 prove lo stiamo facendo dei paragoni con i grandi però se vi chiedessero di far fuori uno della band immagino che non lo direste più a telecamera accese ma direci solo se c'è uno che avete in mente ragazzi in ogni gruppo musicale o in ogni collettività di amici c'è sempre purtroppo un elemento che è quello che ad esempio lancia la carta nel cestino e quando lo c'entra dice ma vieni questa questa persona simpatica chiede della rua questo elemento non c'è non c'è per vedere un attimo com'è la vostra sinergia tra di voi vi chiedo di fare un piccolo gioco alzate tutti le mani tranne uno dai ui